Francesca da Venezia Francesca non è terana del postai e le piace il manga questo è un costume dell'epoca Edo, costume autoprodotto come mai questo personaggio? ho letto il manga, mi è piaciuto molto l'edito in Italia della Planet Marga compratelo pubblicità mi è piaciuto molto invece di fare questo posto non mi piaceva anche il personaggio bene, un grosso applauso grazie anche Bianca, cosplayer veterana, arriva da Aspoli in vicino costume autoprodotto cos'è che ci hai messo di più a fare? perché vedo che un costume in più amanti con noi perché vedo che un costume particolarmente complesso pieno di particolari le cinture le due cinture sono diventata matta insieme all'artigiano cintaio della mia città tutti e due al tavolaggio complimenti all'artigiano e complimenti a lei grazie Bianca grazie serie di Greyman Allen, Miranda e Labi interpretati da Eleonora, Diana e Alice grazie e questa è la loro prima sfilata adesso ce ne tranno con un'interpretazione grazie grazie serie Spectra su Vanilla interpretata da Elettra da Torino abitato giome Elettra, veterana dei cosplay, ha prodotto lo suo costume tutto da sé San Marco come si stava a fare vita non so è un altro ciao com'è timido il zannaggio che è timido ma tutto è l'amacino non così ma pure io ma questo costume è fatto tutto da te sì ma è proprio bello grazie un applauso grazie vi dico solo la serie perché potete immaginare chi sarà il personaggio Matt Max interpreta il ritratto di Dorian Gray ma che bell'uomo anche Matt Max come l'Elektra arriva da Torino e il suo costume è pronto e tutto da lui come mai questo personaggio? perché è un personaggio che stimola il tuo mi piace tantissimo da quando ho letto il libro e ho sempre avuto il desiderio di fare questo personaggio ascolta ma il ritratto dov'è? ben lo sposto in soffitto ok un applauso a Dorian Gray grazie abbiamo Nightwing interpretato da Paolo che arriva da Torino Paolo è un cosplay veterano ma questa è la sua prima sfilata di Madrova ama gli strumenti DC e interpreta il suo personaggio preferito il costume è autoprodotto che ci veda che è Dapao Carisma che è Dapao si spaccia per una musicista ma in realtà è una persona particolarmente oscura io vorrei notare il suo costume che come ci ha già detto ieri è originario della sua terra nativa grazie a Dapao 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 grazie a Dapao